Ospedali di nuovo in affanno per l'emergenza Covid, esauriti posti in rianimazione e malattie infettive all'ospedale di Scafati. A Salerno l'occupazione dei posti letto ha superato il 70%, ad Agropoli rimane un solo posto in terapia intensiva, pochissimi in reparto. Una situazione non gravissima, soprattutto se rapportata ai numeri del contagio, molto alti rispetto al passato, ma il campanello d'allarme c'è, anche perché se aumentano i recovery Covid, si sottraggono posti a quelli ordinari, come accade ad Eboli, dove verrà riconvertito il reparto Covid destinato ai pazienti con problematiche cardiologiche, quello di malattie infettive. Intanto sul territorio si fanno i conti con i contagi altalenanti. A Sala Consilina i numeri sfiorano le 500 unità, secondo i dati forniti dal Comune risalenti al 16 gennaio ci sono 482 positivi, pari al 3,9% della popolazione. Di questi 94 sono tra i ragazzi fino ai 18 anni, 245 sono distribuiti tra l'età 19 e 49 anni, 133 tra i 50 e gli 80 anni e 10 tra gli over 80. Scendono invece a 165 positivi a Montesano sulla Marcellana, 117 quelli di buon abitacolo. A Sapri i numeri complessivi sono diminuiti grazie ad un blocco di 36 guarigioni, ma i nuovi positivi accertati nelle ultime ore sono 14, il totale dunque è di 93. Intanto il Covid si è infilato anche dentro la caserma dei carabinieri di Vibonati, determinando cinque contagi tra i militari, tra cui il comandante. Al momento in attesa delle guarigioni, presso la stazione restano in servizio due appuntati che possono contare anche sul sostegno dei colleghi della compagnia di Sapri. Va meglio a Camerota che scende a quota 43 positivi, qui sono risultati tutti negativi i test effettuati su adulti e bambini che frequentano le scuole comunali, 210 tamponi somministrati, maggiore sicurezza dunque per le scuole che hanno potuto riprendere le lezioni in presenza oggi. A Celle di Bulgaria, all'esito invece dello screening effettuato presso la locale farmacia dagli alunni della prima media, dove era emerso un caso, è risultata una nuova positività, per cui è scattato il protocollo che prevede la DAD per la classe per dieci giorni. A Santa Marina, dopo i casi emersi nelle scuole, è stata disposta la sospensione del servizio mensa per l'infanzia e la primaria del capoluogo di Policastro fino al 31 gennaio. A Centola sono scesi a 116 contagi nelle ultime ore dopo il picco dei giorni scorsi. Intanto continuano a programmarsi nuove sedute vaccinali sul territorio. Il 20 e il 27 gennaio sono previste due giornate di inoculazioni presso il centro Cagliazzano di Sassano per i cittadini di Sansa a partire dalle 14.30. Il 22 e il 29 gennaio presso lo stesso centro dalle 9 alle 13 toccherà ai cittadini di Padula, mentre il 25 ai cittadini di buon abitacolo dalle 14.30. 300 le vaccinazioni previste per ogni appuntamento. Bisognerà prenotarsi ai numeri messi a disposizione dai rispettivi comuni.